Noi dobbiamo uscire da un racconto di noi stessi banale, superficiale e mediocre. L'Italia è molto di più di quello che talvolta dite, è molto di più nella quotidianità, perché certo ci sono gli episodi di malaffare e di corruzione, certo che ci sono, ma nessun Paese civile metterà mai sullo stesso piano coloro i quali rubano e rubano sulle disgrazie dallo straordinario mondo del terzo settore, della società civile, delle associazioni, delle cooperative che si impegnano per dare un futuro ai nostri anziani. Delle cooperative che danno un valore ai nostri bambini. Non ci sarà mai in Italia l'idea di considerare la politica estera come qualcosa di serie B, come qualcosa che non va considerato. E non ci sarà mai in Italia, nell'Italia di quell'ideale comune a cui Luigi Einaudi faceva riferimento e che ho utilizzato come firruge dell'intervento, non ci sarà mai nell'Italia degli ideali belli, profondi, alti. Non ci sarà mai la possibilità di far diventare un dibattito sull'Europa che è casa nostra da sempre, un insieme di ovvietà, di banalità e di mediocrità, perché se l'Italia farà il suo mestiere noi saremo credibili e l'Europa sarà forte. Se cederemo a una cultura anti-europea, anti-europeista, populista come quella che talvolta molti di voi sono costretti ai loro a rappresentare a Strasburgo, a Bruxelles quando ci vanno, beh, quello sarà la dimostrazione che avremo perso la nostra occasione. Il semestre è la dimostrazione che noi l'occasione non l'abbiamo persa, ma sarà il 2015. A dirci se la politica economica dell'Europa unita finalmente sarà davvero centrata sulla crescita o continuerà ad essere una via di mezzo spuria. Spero, penso e credo che con il lavoro di tutti, anche con il lavoro dei parlamentari italiani, potremo finalmente tornare a guardare all'Europa della crescita e non solo all'Europa dell'austerity.